Belen Rodriguez, dopo aver sottolineato con una foto che lei ed Elio Lorenzoni si conoscono da ben dieci anni, ora si fa vedere in vacanza col nuovo fidanzato. Arriva nelle sue IG Stories il primo selfie di cocchia insieme all'imprenditore Bresciano che parrebbe averle rapito il cuore, dopo l'ennesimo crack con Stefano De Martino. Il primo genito Santiago è col papà, anche la secondo genita Luna Maria è con Antonino Spinalbese. La showgirl 38enne parte così alla volta delle Dolomiti con Elio. I due alloggiano in uno splendido chalet. Belen prima pubblica un post in cui scrive, il primo vestito per te. Si lascia ammirare con un abito a quadri bianco e marrone, accattivante come sempre. Arricchisce il racconto con uno scatto di Lorenzoni che, seduto comodamente sul divano, la osserva divertito. Non è finita. Questo è solo il preludio. La Rodriguez si mostra stesa sul prato accanto a Elio. Entrambi l'obiettivo dello smartphone che li immortala nel loro primo selfie ufficiale a due. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.